wow wow che uptibox 4 play si mh mi trova carica questo gioco troppo bello si troppo bello play cosa hai visto una oh com'è simpatico che ti devo fare devo tagliare sempre ma no devo fare il cubo ok devo svegliare il cocomero qua ok si fine fotopompete cos'è facile e allora ti faccio questo ho sbagliato devo farlo tondo reset faccio una bella palla e ti sveglio ah facile martellone e ti sbatto giù facile andiamo avanti qua 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 perché ah ho capito ops forse è troppo grosso questo coso ok pronti allora facciamo così così cosa e allora si guarda ce l'è facciamo una palla a forma di vai no 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 dove deve essere più tonno ma non c'è ma non so disegnare proprio male una palla grossa vai nessuno ti fermerà stavolta nessuno ti fermerà vai vai e vai eh ma eh vai va il diavolo oh cacchio ok ci sto ci sto ci sto ah ah ci sto vai 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 il diavolo ok bomba perché la bomba la bomba va bene facciamo così devo fare la bomba aspetta devo fare la bomba aspetta boom che sta scritto ah niente proviamo così boom non sembra cacchio qua allora facciamo questa roba questo è l'equilibrio giusto io devo buttarla qua come faccio la bomba troppo Uff, ma c'è lo cavolo? Dai! Ah dai! Ma c'è lo cavolo? Perché non salta? Non capisco Ah, ora ho capito Dove sei più piccola Dove è più rimbalzo Al diavolo Un altro Facile Oh, scusa Un proiettile Vai Qua? Tondo Tondo Più tondo Vai 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 il diavolo brutto Fra culo Oh, sì Ok ci sto Martellone Dai Boing Sì 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 capito Sono un genio Sono un genio della mappa Vai geniaccio Mori No Parca Ma dai Ma dai Ma dai Non mi dire che non va Si Più tonda possibile Non va Il Se Rotola 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 Rtola Rotola Eeeh Babbacca No No Cacchio eh? wow ehhh vai 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 no, non funziona fai il culo prende si, vai no 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 ok ah pforca ok calm calma il sangue e il freddo no vai 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 una pforca ma esplode Mmmmm 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 Capito Capito Uno Si Si va bene E cacchio Avanti Troppo Ok proviamo così Ehm Si Allora Facciamo così Geniale Ehm Beh Vai Ah Ci facciamo il cappellino Oh no Non l'ho cacciato Ehm Troppo forte Ehm Cacchio Cacchio Capito Cacchio 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 si sveglia si poi ok capito di abito ecco si ecco la facciamo la bella palla ora si si no si no 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 aspetta piccolo si vai 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 rotola rotola ma robino eh 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 si no sbagliato andiamo a sequenzione così no 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 se deve andare qua proviamolo qua dai oh troppo troppo piano troppo piano ok ok allora questa è della coppia un po' qui solo che no deve essere veloce la cosa aspetta un secondo facciamo così no no ho capito ho capito ho capisciuto proviamo più lunga più lunga più lunga più lunga no 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 capito le parole no 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 si 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 no troppo piccolo no 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 ok ok proviamo così dai oh no 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 non no no